Buongiorno porcellini miei, sono le ore 5 e io ho appena finito la bellissima serata al contatto Labdance di Oldenico di Vercelli. Vi devo dire che è stata una bellissima serata, ringrazio a tutti i ragazzi che mi siete venuti a trovare, siete stati tantissimi e siete stati caldi come il San Valentino. E comunque ringrazio anche tanto a proprietari, a vocalista, a DJ, sono stati tutti molto bravi. E ora partenza per Roma, Fiumicino, aeroporto e si va a Praga, vado a girare tante nuove belle scene per voi porcellini che vi potete divertire con me. E dimenticavo, nella botte piccola c'è sempre vino buono, ricordatevelo. Un bacino dalla vostra stranierissima Rossella Visconti. Ciao!